Mattia Bonadonna, trequartista classe 2005 dell'Alicesio Orizzonti, che oggi ha aperto le marcature contro il Borgo Vercelli nel 5-3 finale, ti chiamiamo subito come abbiamo visto la partita, le emozioni non sono mancate. Esatto, abbiamo fatto una bella partita, nei primi 20 minuti abbiamo faticato in difesa a tenere chiusa la partita, però abbiamo comunque giocato bene e sono felice, sono felice del risultato, è importante per salvarsi. Certo, perché voi siete in zona retrocessione, però questo risultato vi dà ancora speranza di play-out. Sì, gli obiettivi sono i play-out, assolutamente. Certo, poi sappiamo che Mattia è un giocatore di quelli dell'Alicesio Orizzonti che fa quasi sempre il doppio impegno, sabato con l'Under-19, domenica con l'Under-17, ieri hai giocato la titolare con l'Under-19. Com'è? Immagino che sia una bella soddisfazione. Sì, sì, è molto bello, molto bello giocare sia sabato e domenica che è duro, però sono soddisfazioni. Certo, ecco. La buttiamo lì? La prima squadra è troppo lontana? Eh, non lo so, non lo so. Ci spero sempre, ci spero sempre. Vediamo. Ecco, magari se si salva già a fine stagione l'ultima di campionato. Sarà bello, sarà bello. Sarebbe bello, ecco. Bello, bello. Poi oggi hai segnato l'ottavo gol in Under-17, quindi sei anche un giocatore che fa gol, soprattutto su tiro da fuori. Esatto, marchio di fabbrica, diciamo. Ecco, è un tuo marchio di fabbrica, ma diciamo anche manovrando sei uno molto bravo, tant'è che in Under-19 giochi al retrato, giusto? Sì, sì, gioco nei due di metà campo bassi, invece qua sono più trequartista, un po' più avanti. C'è un ruolo che preferisci, oppure… Dipende dai giorni, dipende come mi sveglio, dipende, dipende. Eh, ok. L'importante è fare gol, giusto? Esatto, è la cosa più bella. Grazie Mattia, buon proseguimento. Grazie a lei.